Dai Marco che lo fai Guardami Ragazzi attenti mi pensa che è troppo lontano e da solo Buona vicione Guardate l'uomo non la palla Bravo Allee Allee Buona gioca Allee dietro Sta alla distanza ti devi chiamare Ehi, stai a chiamare! Me lo sciolo tu, me lo sciolo tu! Che fai? Alci in giro del campo, eh! Oh, in maniera, che c'è? C'è, non ti ha tagliato la buona! Sì, ma da qua! Dai Vincenzo che lo fai, dai! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Non mi la vede, eh! Oh, no, no! Oh, sai, sai, sai! Oh, guarda! Ehi, dietro! Ehi, dietro! Ehi, sempre, sempre qua! Ehi, eh! Tornate, tornate! No! No, ritorni! Non è stato ciò? Resta, chiudetelo! Bravo, bravo Marco! Bravo! Questo perché non lo chiudete, eh! Va bene! Guardate là, Leo! Guardate là, Roberto! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda! Guarda, 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 guarda! bravo bravo una pari ragazzi lo dobbiamo chiudere scusate ragazzi non puoi essi tu e tenci azzaro tira subito la dovete chiudere bravo chiudere tira buona ragazzi lo dovete chiudere giannone giannone non c'è nessuno caccio caccio sei dietro giuseppe torna dietro torna dietro giuseppe non perdesti i palloni ma perchè oggi fa queste cose perchè l'ho offizionato questo si scaglione pagnone quadulla 2 a 1 cadaver c'è la